Barone Vassallo, siamo al 4 ottobre 2023. Buonasera a tutti. Allora, vi faccio un esempio molto pratico. Quando una persona si offende o copre qualcosa, quando probabilmente quel qualcosa che gli stai dicendo è vero. Vi faccio un esempio. Se una ragazza o un ragazzo si fa una foto, un selfie, e in quel selfie, non lo so, gli si vede la cicatrice, o gli si vedono le rughe, o gli si vede, non lo so, un pezzo del labbro storto, tagliato, una cosa del genere, la persona cosa fa? Se è vero, prende e cancella le foto. Se ad esempio una persona ha una deformazione, una mancanza, una mano, un braccio che gli manca, e ci sono gli odiatori che vanno a pungere su quel fatto, lui toglie la foto. Chiaro che se è una persona normale, per esempio, vi faccio un esempio, una persona normodotata, gli dici, ma ti manca un occhio, i soliti odiatori, oppure se no, ah non hai i denti, guarda, gli mancano due denti qua davanti, gli manca... Tu dici, ma che cazzo stai a dire? E non fai niente, non la togli la foto. Invece, quando dici una cosa vera, quel qualcosa viene coperto. Attenzione, ascoltate il mio discorso. C'è stato un noto rivenditore di macchine che ha fatto un video molto particolare. Vi chiedo di ascoltare attentamente questo video e di condividerlo. Perché? Sappiamo che negli ultimi mesi sono passate a migliore o peggior vita, dipende dai punti di vista, tre personaggi molto importanti in Italia. Questi personaggi molto importanti in Italia avevano una sorta di scala gerarchica. Scala gerarchica di potere. Questa persona che vi dicevo prima ha preso in considerazione le targhe dei carri funebri. Allora, questo carro funebri qui è targato G-E-999-C-E. In una visione che comprende l'esoterismo che tanto amano determinati personaggi di importanza cruciale in Italia, quel 999 spostato, rovesciato, sta a significare il numero del demonio 6666. Stranamente, stranamente è stato il carro funebre che ha portato in giro la salma di una delle persone più potenti in Italia. D'accordo? Non posso dirvi il nome, andate a cercarlo voi. Non posso dirvi che cosa ha fatto questa persona? Posso dirvi che era probabilmente tra i tre deceduti quello più importante, importante e naturalmente più legato all'esoterismo nero. In seconda istanza abbiamo un altro carro funebre di una persona sempre abbastanza esoterica, importante, potente, nera. Il carro funebre di questa persona importante, esoterica, nera, non di grande altezza è stranamente targato GF-999-HK perdon, 996-HK, scusatemi, errore mio se andiamo a vedere sempre i fattori esoterici sì, si ribalta un numero ma se ribaltiamo gli altri due siamo sempre a 666 con una piccola differenza che quel 6 al posto del 9 probabilmente rappresenta nella scala gerarchica della potenza di questi personaggi neri un personaggio un gradino più basso nella classifica di potenza alla sua presenza relativa due numeri 9 e il 4 ora sono in effetti delle coincidenze molto molto strane se si va a calcolare nella scala numerica delle targhe italiane c'era forse una possibilità su 6 miliardi che questi tre personaggi avessero questi numeri che esotericamente hanno un significato e che nella scala gerarchica se andiamo a calcolarla rappresentano una sorta di ordine crescente di potenza di potere o vogliamo dirlo al contrario decrescente di forza e di potere a questo punto come è stato fatto con altre cose verrebbe di dire siete i soliti complottisti boffoni siete i soliti che vedete i complotti ovunque che vedete le cose storte ovunque sarebbe più che giusto se tutto fosse normale che una persona dicesse così capirai che cos'è? è una delle vostre cazzate di voi complottari voi che vedete la terra piatta voi che vedete dei farmaci meravigliosi salvifici che non sono così oppure voi che vedete dei personaggi che parlano soltanto con le banconote sopra gli occhi perché voi sapete che in Italia abbiamo i minus abben invece abbiamo chi comanda domina con le banconote qui quindi uno dice cosa faranno? quello che è sta lì andate a vedere qualsiasi foto su Google andate a vedere qualsiasi video su Google e scoprite che quelle targhe sono lì tranquillamente probabilmente una compagnia che ha targato vicino i loro mezzi di trasporto però c'è un però se voi andate a cercare su Google o nei motori di ricerca italiani troverete sempre le targhe oscurate non trovate più quelle targhe in vista per trovare quelle targhe per poterle vedere dovete andare sui siti stranieri in Italia quelle targhe sono state coperte ora la domanda è avete mai visto foto di carro funebri con le targhe coperte? ragazzi ragionateci su questa cosa ditemi cosa ne pensate e presto capirete perché dobbiamo metterci insieme con questo grande partito che è Motore Italia perché c'è un qualcosa attorno a noi che si abbraccia l'esoterismo nero che non è molto bello ci vediamo domani ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.